Sì, appunto, io non sono qui come singolo, ma il progetto che vi racconto in anteprima, e anzi ringrazio perché questa è l'opportunità che poi sarebbe venuta più avanti, quando questo progetto vedrà bene la luce, di parlarvene perché è una cosa che farà comodo, mi auguro a tutti. Quindi io sono qui con l'associazione Demetra, che è un'associazione di giovani creativi, cioè giovani, diciamo l'Unione Europea ancora ci definisce giovani, però creativi questo magari andrebbe più indagato, però diciamo così. Siamo attivi a Terni, lavoriamo nel campo della partecipazione, gestiamo a Terni un centro di aggregazione giovanile del Comune, forse per questo siamo più conosciuti, perché quello comunque è il luogo dove più facilmente decliniamo le nostre attività, è un po' anche l'incubatore dove nascono i nostri progetti, che hanno a che fare con il sostegno ai giovani artisti, anche quindi per esempio proponiamo delle residenze artistiche, percorsi di formazione che spesso hanno a che fare con l'arte, tutte le varie declinazioni e ibridi possibili. In questo terreno fertile è nata l'idea di IAPA appunto, all'interno di un macro progetto più ampio, che è stato tra l'altro sostenuto dalla Regione Umbria, in un progetto che si chiamava Up to Up, che ha visto la collaborazione di Zoe, Teatro e del Petti Rosso di Terni. Questa micro sezione, ma che poi in verità è stata soltanto l'inizio di una cosa che ci auguriamo ben più grande, era proprio la nascita di questo portale, un portale che noi definiamo di crowd learning, quindi sì che ha a che fare con la formazione. IAPA sta per incontri di apprendimento partecipativo, quindi non è un acronimo, è più un grido di battaglia diciamo, incontri semplici, nel senso che è un portale web, quindi il suo luogo è la rete, però promuove degli incontri che avvengono poi nel mondo fisico, nel mondo reale, tra persone in carne ed ossa, molto cuore anche, ci auguriamo noi, di apprendimento, perché gli incontri che vi saranno pubblicati hanno a che fare con la formazione, con la crescita, con l'accrescimento personale, possono essere workshop, possono essere tavole come queste, di qualsiasi tipo, la fantasia poi ne potrà stimolare sempre molti di più, quindi anche convegni, partecipativo per diverse ragioni. La prima è che è una ragione strumentale, nel senso che lo strumento è un portale che con le sue funzionalità, e scrivendosi poi all'interno di ormai la conosciuta comunicazione 2.0, insomma, permette l'interazione, permette un sistema di feedback e quindi di valutazione sugli incontri, più o meno in tempo reale, ed anche attraverso una serie di sistemi integrati, che ormai i giovani sempre di più, ma tutti conoscono nel web, permette anche una costante analisi del bisogno. Quindi, ecco, da questo punto di vista è sicuramente partecipativo. Poi, dopodiché, da un punto di vista del contenuto, IAPA, quindi l'associazione che lo promuove, ma il portale, diciamo, incoraggia degli incontri che stimolino lo scambio di conoscenze, no? Dopodiché la struttura, la piattaforma sarà pronta, armata, non nel senso di esercito, ma di montagna da scalare, con gusto anche, per accogliere qualsiasi tipo di incontro, quindi che sia istituzionale o meno, che venga, chissà, da un'agenzia formativa o meno. Però, chiaramente, quello che noi incoraggiamo è lo scambio di microsaperi, quindi del saper fare. In qualche modo vorrebbe istigare anche un po' una ricerca vocazionale, qual è quel microsapere che posso mettere a condivisione, che posso io insegnare, perché il nostro obiettivo è proprio che chiunque possa promuovere un incontro, quindi che chiunque possa insegnare e apprendere. E in questo modo ci auguriamo, appunto, che... Ma, diciamo che, chiaramente, come ogni idea, come ogni progetto che nasce poi, soprattutto in Senna alle associazioni, perché molto spesso si muovono per passione, questo è venuto anche da quello che cercavamo, da quello che avremmo voluto che esistesse, che avremmo utilizzato noi, no? Quindi, appunto, quello che vorremmo andare a stuzzicare è proprio la ricerca di qual è quella cosa che io so fare così bene, piccola, e voglio mettere a condivisione. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo è innanzitutto la convinzione che la formazione non possa essere rinchiusa in delle fasi della vita e in delle istituzioni, ma che, appunto, chiunque possa insegnare e apprendere. Quindi questo è il motivo che ci ha smosso, insomma, il luogo da dove partiamo. Su IAPA gli incontri possono essere incontri gratuiti o a pagamento e quando, semplicemente, quando sarà raggiunto il numero minimo di iscritti, l'incontro può aver luogo. Oh, la nostra piattaforma nasce in una casetta di campagna che è il centro di Palmetta, quindi, diciamo, una struttura anche poetica, se vuoi, ma si rivolge a voi innanzitutto e poi all'Italia intera. Noi abbiamo iniziato a lavorare su questo codice perché facendo una ricerca semplice di benchmarking abbiamo trovato dei nostri, adesso, amici brasiliani che avevano fatto una cosa del genere in Brasile e gli abbiamo chiesto ma cosa facciamo? Dateci una mano, vorremmo. E ci hanno, appunto, aperto il mondo dell'open source. Loro hanno lavorato, e quindi è quello che stiamo facendo anche noi, sul codice di Catarse, che è quello che sta alla base di Kickstarter. Insomma, Kickstarter lo conoscerete, insomma. E lo stiamo mutuando, traducendo e mutuando per fare con questo degli incontri formativi. Basta? Non lo so. No. No, no, no No, no, no